però subito in radio ho potuto scrivere ma è molto bello in patinati la radio gioca molto sulla Chiara, volevo chiederle una cosa, ma anche il ruolo della carta oggi insomma con i tablet, con ovviamente gli smartphone e tutte queste cose si perde proprio il contatto fondamentale con questa materia incredibile il famoso foglio bianco che può essere ruvido mi ricordo, poi ho scritto Fabriano molto bene visto che nella via vita precedente sono stato anche dentro me lo ricordo di tutte le grammature e superfici ed è importante, quindi volevo chiederti se secondo te c'è comunque ancora questo rapporto così importante e materico tra le nuove generazioni e poi la carta fisica la cosa bella, si, la cosa bella è la fisicità del mezzo e anche dei colori che si chiudono per andarci sopra secondo te, quindi quello è, come dire, la piattaformina lego e poi io ci prendo sopra avanti ai cittadini tutti i colori ma la pendente del festival è che questo non è un festival dove si va e lo portano persone sul palco è un festival dove si fa esatto si, si usano le mani, si si porta, si si butta dentro il colore si fanno anche esperimenti che sono metati a digitale e in materiale si, eh, trafrog, la concorso, uno degli esperimenti che lui fu un workshop di trafrog come dite tutte le predizioni in cui si facevano storyboard poi per fare un piccolo dei clip è interessante è quella cosa e devo dire che i bambini per esperienza personale hanno un rapporto molto forte con la carta e con l'albondà di sé grazie